1, 2, 3, Prova Per l'omicidio di Mohamed Ibrahim, 25 anni, originario del Bangladesh, il cui corpo è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Corso Francia, dal coinquirino, è stato effettuato un fermo. L'investigatore della Polizia di Stato ha infatti sottoposto a fermo un ragazzo nato in Bangladesh, classe 1997, poiché gravemente indiziato. Il giovane è stato rintracciato dalle agenti della squadra mobile di Torino all'interno della stazione ferroviaria di Porta Nuova questa mattina. La perquisizione effettuata a suo carico ha portato a sequestro i capi di abbigliamento e di altri elementi di sicuro rilievo probatorio, in vi compreso un grosso coltello da cucina adoperato con l'arma del delitto. Il momento del delitto, secondo quanto sin qui è emerso, sarebbe di natura economica, in quanto collegato a un debito maturato dalla vittima nei confronti del fermato e non ancora onorato. Inoltre risulterebbe che il denaro conteso sarebbe stato utilizzato dalla vittima per pagare in Bangladesh il matrimonio di una sua congiunta già promessa in sposa all'autore del delitto.